stiamo facendo la prima postazione dei fuochi che ci saranno stanotte questo è il primo, ma questo è San Michele, lo faremo anche a San Giovanni Sì, come? Sì, appoggia appoggia è giusto che non ci reghiamo danni Sì, lo so a posto, stai tranquillo Stai tranquillo, sono del mestiere, stai tranquillo Siete con Monti Matteo, vero? Siete con questo mestiere e merda? No, no, io faccio l'illuminario, però sono appassionato di fuochi Ah, l'illuminario? Paolo Riolo sono Mi conoscono chiunque Allora facete l'illuminario 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 Dove siete voi? No, 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 ti spiego Ci conosciamo tutti Sia in Puglia Ognuno si fa le sue feste E noi non ci rompiamo l'anima a nessuno Facciamo il nostro lavoro e basta Pure che ci chiamano Sono finiti pure tutti quanti Quello è pure il vostro No, quello è il Romano Ah, quello è il Romano che è riposizionato Vabbè, poi ci vado Io prima sto prendendo la postazione fuochi La devo mandare poi A posto, vi domani Tu cammini Di postare qua ti secca Ci penso io Ma qua ci hanno filo a noi Non ci possiamo rovinare Non ho un nuovo picco Che ci vuole? In settimana La situazione è La situazione è In effetti Un'è Il primo e questo è il primo qua che arriviamo là sotto ce n'è tempo poi domani pubblichiamo qua c'è questo pezzo di qua quanto è il capo già arrivato ce l'avevo preso poco fa qua che si arrivato là sotto grazie a tutti